c'è un detto tra i radiomatori un dollaro per la radio 100 dollari per l'antenna a differenza di quello che pensano molti la cosa più importante non è l'apparato certo lo è anche lui la sua importanza ma quello che fa davvero la differenza è l'antenna questa è una antenna veicolare ok con base magnetica quando la utilizziamo sulla macchina è buona norma metterla al centro del tetto questo perché non so se avete mai fatto caso le antenne solitamente hanno dei radiali in fondo perché l'ideale sarebbe mettere per terra in modo che abbiano proprio una terra ma di contro più sono in alto più sono liberi da ostacoli e quindi rendono di più quindi per ovviare alla cosa si mettono in alto ma si mettono i radiali che fanno da terra sulla macchina ovviamente non ha senso mettere i radiali si mette la base magnetica sul tetto e il tetto farà appunto da terra più l'antenna è centrale sul tetto e migliore è la resa questa antenna è una sette ottavi d'onda per le vhf e una cinque ottavi d'onda per le vhf è alta un metro e cinquantotto adesso qui non so se si riesce a vedere per l'intero non mi sta nell'inquadratura è ovviamente una veicolare può supportare fino a 150 watt d'uscita e in teoria quando vabbè in linea di massima più l'antenna è lunga migliora è la resa ma solitamente per una macchina un buon compromesso da cinque ottavi d'onda io avevo preso questa molto lunga perché avevo un fuoristrada che adesso purtroppo non ho più e quindi l'avevo messa sul portellone che non è l'ideale perché comunque l'ideale è sempre metterla in mezzo al proprio al centro del tetto della macchina ma ovviamente un'antenna così lunga non si può mettere la cinque ottavi d'onda è quella che solitamente consigliano perché è un buon compromesso ricordo che l'antenna deve avere una lunghezza che deve essere un multiplo o un sottomultipo della lunghezza d'onda per intenderci un'antenna per i cb che ha una lunghezza d'onda da 11 metri deve essere o 11 metri o 5 metri e mezzo che sarebbe il mezzo d'onda o comunque dei multipli o sottomultipi di quegli 11 metri questa aveva una resa molto interessante adesso la sto usando quando uso la macchina ferma non posso usarla mentre sono in movimento ma ha veramente una bella resa questa antenna qui e l'avevo pagata una quarantina di euro questo è un cavo classiale cosa significa significa che all'interno ha un'anima che è solitamente di rame il conduttore vero e proprio avvolto da un materiale di elettrico che fa da isolante avvolto a sua volta da una maglia una treccia anche questa metallica che funziona praticamente da schermo per l'interferenza esterno avvolto a sua volta da un altro materiale solitamente penso sia semplicissima gomma comunque un altro materiale isolante che avvolge il tutto questo è un rg 58 è uno dei più usati soprattutto per le antenne veicolari uno perché se lo usiamo come in questo caso con una base magnetica quindi dobbiamo poi far passare questo filo tra le portiere tra i finestrini nel portabagaglio e cose del genere per cui non deve essere troppo grosso e un altro motivo è perché solitamente su una macchina la lunghezza del cavo non è mai molto lunga perché specifico questa cosa perché ovviamente un cavo rg 58 è un pochino più economico rispetto ad altri cavi è un pochino più piccolo ma più il cavo è piccolo e più disperde maggiore è la dispersione quindi per una macchina dove abbiamo pochissima lunghezza può anche andare bene su un cavo di discesa magari di 20 metri un cavo così disperde troppo per cui solitamente si usano cavi più più grandi poi vi farò vedere la mia antenna di casa il cavo è decisamente più grande qui invece c'è un PL maschio la maggior parte delle radio usano questo tipo di attacco esistono anche degli altri sganci rapidi cose varie ma il più usato è il classico PL come questo ok ora provo a spiegarvi una cosa molto tecnica partendo dai due video precedenti se mi sbaglio perché può essere perché è una roba piuttosto tecnica correggetemi pure nei commenti allora abbiamo detto che l'antenna deve essere di una lunghezza multipla o sottomultipro della lunghezza d'onda questo per evitare le stazionarie cioè che una parte dell'onda non riesca ad uscire dall'antenna ma torni indietro l'antenna ha poi collegato un cavo ok un cavo coassiale che arriva fino alla radio vabbè questo è un portatile la base fissa ce l'ho di sopra però poi l'antenna si attacca a una radio e in fondo a questo cavo c'è un PL che è appunto l'attacco che va nella radio ora abbiamo detto che la dispersione del cavo è inversamente proporzionale alla sua grandezza cioè più il cavo è grande e meno disperde più il cavo è piccolo e più disperde la stessa cosa si può dire per i PL un PL di buona qualità disperde sicuramente meno di un PL di alta qualità l'antenna in base alle sue caratteristiche avrà un guadagno ma deve essere tarata correttamente appunto per evitare le stazionarie quindi la potenza di uscita che noi abbiamo sulla radio quindi la sua efficacia da che cosa è data? è data dalla potenza di uscita della radio mettiamo un 100 watt meno quello che perdiamo nel PL meno quello che viene disperso nel cavo che come ho già detto il cavo più è lungo e più disperde per cui anche qui bisognerebbe avere sempre cavi il più corti possibile meno quello che torna indietro con le stazionarie più il guadagno dell'antenna per cui meno riusciamo a disperdere e più guadagno all'antenna e maggiore è il risultato che otteniamo per cui avere dei cavi e dei PL di buona qualità ci aiuta parecchio nel oltre ad avere un'antenna tarata correttamente con eventualmente un accordatore che però anche lui a sua volta un po' disperde se non ci fosse l'accordatore sarebbe ancora meglio ma quando è caso si mette comunque era per darvi un'idea del perché bisogna avere cavi di un certo tipo con materiali di un certo tipo, antenne di un certo tipo eccetera eccetera ora ci spostiamo un attimo sul balcone di casa mia e cerco di farvi vedere la mia antenna nella stazione fissa qui ho commesso io un errore perché quando ho preso le misure ho sbagliato di qualche centimetro e questo palo dove entro io a portarmela al di sopra del tetto invece sono arrivato proprio a filo del tetto sarebbe stato meglio non avere quella parte di tetto metallica così vicina alla base dell'antenna però ormai è andata e ce la teniamo così questa è una J-Pol è stata autocostruita ma non da me e come potete vedere qui scende un bel cavo coassiale che è molto più grosso di quello che vi ho fatto vedere prima questo perché? perché appunto qui il cavo di discesa ha tutti questi metri e poi ha anche tutto l'ingresso verso casa per cui un cavo di discesa così lungo richiede di essere un pochino più grosso questo è un RG213 tra l'altro è un cavo sbilanciato questo dovuto proprio alle caratteristiche dell'antenna da J-Pol e tra l'altro l'antenna J-Pol in teoria è data come omnidirezionale in realtà è costituita da due bracci uno più grande da due stili più correttamente uno più grande e uno più piccolo e per quello che ho potuto constatare io una certa direttività seppur minima in realtà questa cosa gliela garantisce però ecco più che altro quello che volevo farvi vedere adesso è proprio la questione del cavo quindi è importante avere un cavo un pochino più grosso quando si hanno delle discese più lunghe proprio per evitare le dispersioni del segnale questa antenna tra l'altro è stata costruita tutta con materiale di recupero è stata fatta tutta con materiale di recupero sì non posso non terminare questo video ringraziando il mio amico Walter nonché Italia di Uniform 1 Lima Eco Bravo che è colui che ha costruito quella antenna e che tra l'altro mi ha regalato e per cui niente volevo solo ringraziarlo che oltretutto l'ho anche contattato prima di girare questo video e mi ha dato delle informazioni tipo il cavo che è sbilanciato che io non lo sapevo e poi se riesco farò un video anche su quello ma ho dato un po' di informazioni proprio perché quel tipo di antenna ha bisogno di un cavo sbilanciato che è stato costruito Grazie.